ed eccola la valsesia già ombreggiata di halloween 2020 e c'è covid non ce n'è abbiamo anche il mascherato figa perdo mica tempo io ed eccoci amici della notte siamo in cammino siamo qua con luca roncolato aedo durio daniele chiodo allora davanti a noi siamo siamo all'alpe di nera il corno bianco sulla sinistra per la specie di piramide ora a destra abbiamo il monte rosa la bellissima sede della capanna margherita comunque lì sotto dove c'è sempre i passi salati da lì siamo andati ultima volta io daniele già era il corno bianco corno white ok quindi dov'è che andiamo allora ragazzi questo qua è la nostra vita c'è modometto lo potete vedere la dai rifacciamo segna segna tre ore e mezza è meglio che ci muoviamo e ragazzi c'è modometto allora c'è modometto millenove tre ore da non che non abbiamo andato bene amici della notte mi stanno facendo pascolare sulle piste da sci vedete ragazzi noi dobbiamo arrivare là in cima quello lì il passo te lo metto mentre la che vedrete meglio in fotografia il monte rosa di qua quella lì questa qua esattamente invece la valsesia e queste sono le piste di tutto ci sono le piste da sci del comprensorio di mera la c'è l'ultima seggio via e via vai sì e quindi questa sera l'obiettivo di questa passeggiata è quella di godersi un tramonto fantastico in quel del passo del ometto siamo quasi a 2000 metri siamo 1911 metri sul livello del mare esattamente e via facciamo questa prima cresta e poi arrivamola in cima e ci siamo ancora un quarto d'ora venti minuti e abbiamo finito il nostro la nostra passeggiata che bello è ufflai benissimo ragazzi abbiamo raggiunto il monte dell'ometto fai il segno destra abbiamo gli influencer che filmano tutto buonasera dall'ometto non abbiamo di covid di qui no ma dopo un po' luca ti senti attuato e allora il bielo che vedi fuori no qua dietro luca roncolato com'è stata l'ascesa 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 la salita non cazzare no eh come li invia per favore un video di... sì un drone con dietro il braccio l'hanno buttato veramente per culo porca troia ma sai che ho appena mangiato la città 5 secondi eh vai vai ma mi scappo ancora vai falla prego non basta mi non botto bene ragazzi che figa bellissimo qua eh siamo arrivati in cima adesso aspettiamo il tramonto il motivo per cui siamo saliti ed eccola là in fondo la valsesa che inizia a essere illuminata di tramonto una bella cresta questa è la cresta che abbiamo appena percorso per salire fin qua e quel micro paesino che vedete lì in fronte invece l'è è mia Adriana vai ancora Adriana a 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 Grazie a tutti Ma la terra è piatta Ma scusa la terra non è un rombo È un triangolo scaleno Guarda che gli egizi hanno fatto le piramide perché era così la terra Aspetta Luca ridillo perché non mi ha sentito bene Oh Luca si è proposto di fare le foto No faccio le foto che io vengo in ritratto Daniele sta facendo il Buddha giù in fondo praticamente Eh beh ma a te non guardi mai Non aver paura Edo non aver paura Ah no posso anche mettermi così? Come va? Aspetta mi piace l'inquadratura Ok ci stiamo? Stai più che altro Ti ho caro non buttarmi giù però Stai così Ok va bene? Ok stai così Ciao a tutti ragazzi siamo qui in cima all'Alpe Lometto Dometto 1911 metri sul livello del mare Alle nostre spalle abbiamo il Monte Rosa Che adesso sta diventando rosa Il sole sta andando giù Il tramonto Abbiamo altri quattro tossici qui con noi oggi Daniele Chiodo Luca Roncolato Aedo Durio Siamo tanto tossico che devi messa una persona in più Come una in più? Eh vabbè E uno sta penare Siamo quattro Siamo quattro tossici Taccito che deve fare intervista? Quindi Invece di qua possiamo ammirare La Valsesia Che si sta Accuotendo Cazzo è la pasta asciutta Guardate che figata Proprio bello qua Sono le 6 Ormai i colori più belli della sera Ormai qui col tramonto Davvero Ma che roba Arancione fuoco Sembra che Gio sta lanciando fiammate Cazzo di gas Porca troia Ma che arancione Ma che paletta colori Devo fare un'altra di foto Non c'è da fare Devo fare un'altra foto Facciamo un selfie D? Ok faccio una panorama Faccio una panorama proprio Faccio una panoramica qua Perché è pazzesca Mai visto una cosa del genere Ed eccoci amici Abbiamo finito di guarderci Questo tramonto Sì ho capito Ma ho più materiale per YouPorn Che per il mio vlog Dio caro C'è un qualche roba Un film horror Oh è sempre Halloween Ricordatevelo È vero è Halloween Buon Halloween a tutti Benissimo amici della notte Nel buio più totale Stiamo riprendendo il nostro cammino Verso Scopello Valsesia Quella Quella Qualla M Accupello Devo fare un Exacto Valsesia È vero luc Nicholas Grazie Per Cannotti Croco C'è un altro Ken Grazie a tutti.